Ciao a tutti, mi chiamo Lucia Caponetto e oggi leggo alcuni brani tratti dalla storia per bambini di Sara Rattaro, Con te non ho paura. Le illustrazioni sono a cura di Roberta Palazzolo. Immagina un luogo magico, dove il sole che sorge ogni mattina illumina praterie immense, colline ambrate e lunghe strade sterrate. Immagina un luogo dove gli animali vivono liberi, muovendosi in branchi e radunandosi vicino ai corsi d'acqua per rinfrescarsi. Immagina l'Africa, dove ancora si possono incontrare gli elefanti. Capitolo 1. Anche se aveva solo sette anni, Samuele sapeva così tante cose sugli elefanti che il solo pensiero di poterli finalmente incontrare lo aveva reso nervoso per tutto il viaggio. Sua mamma, Sara, faceva l'etologa, la scienziata che studia il comportamento degli animali ed era considerata una dei massimi esperti in fatto di elefanti. Lei e il figlio erano arrivati nel villaggio di Kikao, in Botswana, solo il giorno prima, dopo un lungo volo aereo. Sara era stata chiamata dai responsabili della grande riserva faunistica del Calari per un consulto. Gli scienziati del parco, infatti, erano preoccupati per un elefante in particolare, che sembrava comportarsi in modo del tutto diverso dei suoi simili. L'animale era aggressivo e non voleva vivere con il suo branco. Quando Sara aveva proposto a Samu di accompagnarla, lui aveva accettato con grande gioia. Non vedeva l'ora di vedere gli animali della savana dal vivo. Capitolo 2. Mi racconti del cimitero degli elefanti? chiedeva Samu ogni sera alla mamma prima di addormentarsi. Di nuovo, ma non sei stufo di questa storia? Il bambino allora si girava verso di lei e la guardava come se non desiderasse altro che ascoltarla. Un tempo si credeva che esistesse un cimitero degli elefanti, un luogo dove gli animali ormai vecchi si dirigevano prima di morire. Abbandonavano il branco alla chetichella e muovendo i passi su terreni polverosi si recavano in Arabia Saudita. È lì che la leggenda colloca questo posto magico. Perché magico? chiedeva tutte le volte Samu a questo punto della storia. Perché si narravi fosse conservato un libro contenente le formule magiche per portare la pace nel mondo. Per molti anni gli esploratori andarono alla ricerca di questo libro. Seguivano gli elefanti più anziani, convinti che li avrebbero condotti al famoso cimitero. Ma alla fine del percorso si ritrovavano sempre nel punto esatto da cui erano partiti, oppure subivano una vera e propria perdita della memoria e non riuscivano a raccontare ciò che avevano visto. Sara guardava il figlio chiudere sereno i grandi occhi dolci. Quella storia aveva sempre un effetto rilassante sul suo bambino. Un giorno ti porterò a conoscerli di persona, questi animali meravigliosi, pensava tutte le volte mentre spegneva la luce. Quel giorno era finalmente arrivato. Capitolo 3. Sara e Samu atterrarono a Gaborone, la capitale del Botsuana, in tarda mattinata. Un signore sorridente gli stava aspettando. Io sono Lumumba, si presentò allungando la mano. Benvenuti in Africa. Salirono tutti e tre su una grossa jeep e si misero in viaggio. Gli occhi di Samu si persero nei colori di una terra sconfinata. Ogni tanto l'auto si fermava bruscamente e, come avveniva solo nei sogni, apparivano degli animali a cui bisognava dare il tempo di passare. Per lo più gazzelle e zebre. All'improvviso Sara distese un braccio e indicò una direzione. Vicino a una piccola boscaglia si poteva vedere un gruppo di giraffe intente a mangiare le foglie più alte degli alberi. Samu era emozionato e si chiese se sarebbe stato capace di ricordarsi tutte quelle cose meravigliose una volta tornato a casa. Quando il sole iniziò a scendere all'orizzonte, la sua luce donò alla terra una sfumatura più rossa che rese la strada quasi indistinguibile del resto. Dopo parecchie ore arrivarono al villaggio all'interno di un'immensa riserva. Cos'è una riserva mamma? chiese Samu. È una grande area dove gli animali vivono liberi e allo stesso tempo vengono tutelati l'ambiente e ogni specie. Vuoi dire che gli animali sono protetti? Protetti da cacciatori e bracconieri. Lumumba mostrò loro l'alloggio. Era una piccola casetta di legno con una porta scricchiolante e due grosse finestre. Il bagno esterno non aveva il tetto e al posto del pavimento si poteva toccare la terra battuta. Cos'è quello? chiese Samu indicando un grosso albero. Si chiama Marula. È una delle grandi piante indigene africane. Dai suoi semi si ricava un olio nutriente e la corteccia proprietà curative, rispose Lumumba. Altre abitazioni uguali alla loro circondavano una costruzione più grande al centro del villaggio, dove la sera si cenava tutti insieme e di giorno i ricercatori tenevano le loro riunioni. Grazie.